Questa settimana abbiamo giocato a 9 titoli diversi e vi parleremo di giochi che potrete provare anche voi a Lucca Comics & Games Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi Noi siamo i Giullari, come ogni venerdì vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per il nostro diario settimanale, ovvero tutto ciò che abbiamo giocato nella settimana per noi appena trascorsa, ma prima di iniziare un mega ringraziamento ai nostri due nuovi Giullari d'oro ossia Mattia e Gabriella Siamo stati dicendo di dirgli uno ciascuno, grazie, grazie, grazie Grazie mille Prima di dirvi cosa abbiamo giocato vi diciamo che il prossimo venerdì uscirà il nostro diario ma quando uscirà noi saremo già in quello di Lucca Comics & Games dove ci troverete venerdì, sabato e domenica e soprattutto avrete la possibilità di giocare con noi stare con noi, fare delle cose con noi, fare dei meet and greet, per usare dei termini tecnici che fanno molto giovane Ci vediamo e ci beviamo il caffè assieme anche, giocheremo, faremo delle attività assieme ci troverete a vari stand in giro per la fiera, quindi qua sotto in descrizione, nei commenti ma soprattutto seguiteci sui nostri social perché stiamo definendo ancora in questi giorni in realtà gli orari precisi in cui ci troverete, avrete la possibilità di stare con noi quindi se vi va cercate sui nostri telegram, facebook, insomma gli appuntamenti dei titoli giocati vi abbiamo già parlato di Zolkin, Pulsar, Caffè, Erbaceus e Zefiria Bravissima vai perché io non le sto più mettendo la lavagnetta perché sono diventato pigro e non le scavo più i giochi ma se li ricorda così come si ricorda che il primo titolo di cui vi parliamo è Vi parliamo di Get On Board, titolo che avevamo già provato a play ve ne avevamo già parlato in quell'occasione dopo la prova in fiera che ci aveva colpito tantissimo e ci aveva super convinto e adesso come avete visto anche lunedì è uscito il nostro gameplay il gioco è super disponibile e per noi è stata una delle sorprese migliori di quest'anno uno dei giochi che più ci è piaciuto perché fa una cosa molto semplice ovvero rielaborare un concetto un po' di roll and write in questo caso con un flip and write aggiungendo però un sacco di variabilità ai giocatori tantissime strategie da dover perseguire e il cercare di incastrare tutto quanto nel miglior modo possibile e lo fa con una semplicità con una immediatezza e con una grande interazione tra i giocatori che me l'ha fatto veramente apprezzare tantissimo ma me la segni proprio il gioco è davvero iper semplice si gira una carta ticket questo ticket ci dirà a seconda della plancia che avremmo davanti a noi per quella partita quale forma di strada, di tratta che percorrerà il nostro bus potremo andare a piazzare sulla mappa e mentre piazziamo giù i nostri bastoncini e andiamo a creare la nostra tratta tratta saliranno sul nostro bus varie tipologie di passeggeri che se saranno poi scaricati quindi passeremo con la nostra tratta nei luoghi dove vogliono andare ci daranno punti e ci daranno bonus mentre cerchiamo di fare questo cerchiamo anche di completare l'obiettivo segreto che abbiamo completare gli obiettivi pubblici e massimizzare i punti anche dati dai luoghi speciali semplicissimo, velocissimo perché dura appena 12 turni si gireranno 12 carte ticket e si faranno 12 posizionamenti ma dove andranno gli altri ci romperà un sacco le scatole non sempre potremo andare dove vorremmo e dovremmo prendere delle deviazioni che comunque ci toglieranno punti dobbiamo capire quando è che il gioco vale la candela quando ha senso andare in mezzo al traffico quando ha senso cambiare la nostra tratta oppure provare a fare un altro giro e magari riuscire anche in quel modo a massimizzare i nostri punti il gioco è da 2 a 5 giocatori e vedrete vabbè tutti i giochi vanno da 2 a 5 e 2 a 4 ma qui si ha la possibilità di avere la mappa fronte e retro quindi dalle due parti quindi se si gioca in 2 e 3 si utilizzerà una mappa e se no altrimenti si va a Londra quindi non c'è la questione magari di dover raggiungere delle cose di doverti giostrare e dire però magari due giocatori rimane troppo largo no 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 perché si ha già proprio la mappa apposta tant'è che no 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 stavo cercando di dire che infatti sulla mappa da 2 o 3 giocatori ci sono già delle tratte con del traffico segnato e già solo quello serve a rendere già l'interazione cattivissima per non parlare delle carte con i buchi perché noi appunto è un card flip and card come si chiama giri una carta metterai la tua tratta con i bastoncini sulla mappa ma le carte sono obliterate quindi sono proprio i biglietti del tram, del bus con i buchi obliterati non lo so se si fa ancora fanno ancora il buco dei biglietti non penso però è bellissimo comunque questo biglietto è pluriti pratica un'altra cosa che mi è piaciuta molto molto di questo gioco è che ognuno ha il suo foglio e quindi si girerà la carta quindi il numero sarà uguale per tutti ma cambierà il modo in cui tu potrai andare a mettere i tuoi bastoncini però poi a fine partita tutti avranno avuto la possibilità di mettere tutte le stesse identiche forme semplicemente in un ordine diverso il gioco poteva funzionare tranquillamente anche se ognuno sul suo foglio sulla sua plancia si faceva la sua tratta e si andava a segnare i suoi punti ma il fatto di aver creato una mappa comune a tutti quanti i giocatori su cui tutti quanti i giocatori avranno da completare degli obiettivi comuni e il proprio obiettivo privato che saranno tutti diversi ma comunque da fare tutti quanti su quella mappa si tenderà tutti quanti a voler raggiungere in certi momenti della partita determinate zone della mappa e il fatto di aver questa mappa unica per tutti quanti i giocatori e la vera genialata e la vera figata secondo me di Get On Board va proprio ad aggiungere questa interazione al gioco che è poi ciò che manca tanto in molti Roll and Write invece questo qua mi è veramente piaciuto tantissimo e non hai neanche la sensazione di star giocando un Roll and Write e poi il tutto con una semplicità sì 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 comunque la spiegazione è semplice è chiaro cosa devi fare è proprio che inizi a giocare e hai già capito cosa devi fare certo e anche il sapere man mano che va avanti la partita quali biglietti sono già usciti e spuntarteli sulla tua plancia quindi tu sai già cosa ti rimarrà sai già quali forme ti arriveranno non sai bene in che ordine ma sai quanta tratta puoi ancora mettere sfruttare i semafori verdi al momento giusto per mettere una tratta in più è super importante insomma ha veramente tanti tanti bellissimi elementi è proprio proprio figo abbiamo poi giocato allo scatto perfetto altro gioco con carte bucate ma qui il buco nella carta è il protagonista del gioco perché noi cosa andiamo a fare con lo scatto perfetto ce lo dice la parola stessa cercheremo di fare uno scatto una fotografia perfetta spenga la luce ci ha visto quindi siamo in giro per il mondo a cercare di fare la foto più bella per la National Geographic quindi andando a fotografare i nostri animali in diversi luoghi nei loro habitat e magari riuscire anche a beccare questo Yeti questo personaggio mitico che nessuno crede che esista ma noi lo riusciamo a vedere lo riusciamo anche a fotografare e come lo facciamo tutto questo? con le carte bucate noi avremo infatti in mano delle carte paesaggio che sono per l'appunto queste carte bucate con una tipologia di ambiente o anche magari più di uno vari animaletti ma quello che dovremmo fare sarà scegliere una di queste carte andarla a infilare nel dispenser centrale orientata come vorremmo di 180 gradi per far sì che nel buco nei buchi della carta che noi stiamo andando a piazzare compaia almeno un po' di un animale si spera anche più di uno perché in questo modo noi potremo prendere le tesserine animale corrispondente che andremo a mettere sulle pagine degli album che avremo scelto nel corso della partita noi o scatteremo una foto mettendo giù una carta oppure prendiamo una pagina di album le pagine di album sono fondamentali perché se no noi le foto se non le appiccichiamo negli album non ci valgono nulla alla fine della partita e allo stesso tempo cosa che mi è veramente piaciuto un sacco e che rende il gioco anche un pochino più strategico per quanto sia chiaramente un gioco adatto per tutta quanta la famiglia ma anche chi è già un po' più scafato e vuole quel pochino di sfida in più il fatto che le carte ti diano anche degli obiettivi dei modi aggiuntivi per fare punti che non è fondamentale soddisfarli ma che se riesci a soddisfarli farei dei punti in più ti farà venire la voglia di riuscire a incastrare non solo fare la foto in cui becco gli animali ma fare la foto in cui becco l'animale giusto che mi serve a me gioco una carta paesaggio quando spero che l'altro vada a prendersi una carta album così quel paesaggio che è quello che mi serve per completare il mio obiettivo mi rimane e riuscirò a fotografarlo e in più gli ieti che se noi riusciremo a fotografare pescheremo casualmente la tesserina che ci darà o la metà destra o la metà sinistra dello ieti e se riusciremo ad averla entrambe faremo anche qua un piccolo punto bonus che è una piccola aggiunta molto simpatica al gioco ma chi è veramente lo ieti? come diceva Albi questo gioco prende proprio una fetta di età diciamo con cui poterlo giocare perché ha dato la famiglia perché lo può giocare appunto l'adulto o comunque gli adulti e se ci sono anche dei bambini ci si possono mettere insieme i bambini quando abbiamo giocato lo scatto perfetto la prima volta è stato il classico gioco che mi è venuto da dire ho detto ma perché un'idea così semplice non sono riuscito ad averla io cioè sono quei giochi che poi mi fanno incacchiare perché dico cavoli è un gioco con un'idea di base veramente semplice ma geniale veramente con pochissimo riesce a crearti un gioco veramente piacevole veramente anche sfidante dove veramente poi puoi arrivare a giocartela sul singolo punto e quindi anche riuscire a fare lo scatto perfetto ovvero avere la certezza prima di aver provato fisicamente la carta che tu con quella carta riuscirai a centrare un animale perfetto senza tagliarne nessun pezzo né la punta dell'orecchio né dell'ala né del becco né della zampa fuori da quel buco che tu andrai a posizionare se davvero lo vedi integralmente e l'hai dichiarato prima lo scatto perfetto allora farei due punti extra che sono fondamentali anche per riuscire a vincere questi due punti aggiuntivi per un punto è veramente per un punto la partita esatto la partita veramente cambia tutto con dietro un'idea talmente semplice che è geniale Franco Ieti diritto di replica sul re-education lanciato abbiamo anche giocato a Bruxelles 1893 gioco di cui vi abbiamo già parlato in un nostro vecchio diario siamo andati a riguardarci per curiosità per vedere cosa avevamo già detto di Bruxelles e prenderci conto che non abbiamo detto assolutamente nulla se non che avessi vinto io quella era la cosa importante da dirvi in quel diario ho vinto io Bruxelles 1893 è un gioco che abbiamo da tantissimi anni che tra l'altro ho letto proprio in queste settimane che verrà ristampato in una nuova edizione deluxe come vanno tanto di moda adesso e siamo contenti perché comunque è un bellissimo gioco è un gioco che di base è un piazzamento lavoratori ma al cui interno ha tantissime meccaniche tutte quante però molto molto ben amalgamate tra di loro in quanto noi saremo in questo punto nell'esposizione universale dell'art deco del fine 1800 a Bruxelles e andremo a costruire dei nostri palazzi che ci daranno punti ci daranno dei bonus incontrare incontrare personalità di prestigio della Bruxelles di quegli anni fuori dal teatro andare a prendere materiali di costruzione con cui fare i nostri palazzi e prendere e comprare e vendere e creare opere d'arte da portare poi a questa mostra dell'esposizione universale dell'art deco fra realtà e opera d'arte il gioco dicevo che di base è un piazzamento lavoratori ma noi abbiamo già due tabelloni dove piazzare i lavoratori da un lato c'è un tabellone dove ci posizioneremo gratuitamente ma andando a far crescere il numero di lavoratori per poter ripetere le stesse azioni e di lavoratori ne abbiamo sempre molto pochi e chi avrà giocato più lavoratori in quella zona ne perderà uno per il round successivo che verrà mandato in prigione e lo si potrà recuperare esatto solo tramite determinate azioni e sull'altro tabellone che varierà al variare del numero di giocatori la quantità di azioni effettivamente disponibili su questo tabellone faremo dei posizionamenti pagando soldi perché questi soldi contribuiranno colonna per colonna ad un'asta per una carta bonus di fine round e quindi noi non solo faremo l'azione che ci interessa ma guardando anche a quale azione bonus è collegata quella certa carta per la fine del round che vinceremo con quest'asta in più ogni quadrato praticamente di azioni darà dei punti anche per maggioranza che avrà più o meno attorno a quell'incrocio anche lì in base a un altro tracciato in base a quanto siamo avanzati Bruxelles ha tutto ciò che piace a noi due perché c'è interazione c'è la questione dell'asta quindi ti dà fastidio c'è la questione di doverti creare un buon motore con i personaggi che ti diano punti che ti diano soldi a chi piace un po' di cattivare un po' mettere bastoni tra le ruote è un gioco che sicuramente fa il suo a descriverlo così sembra che nel gioco ci sia tanta roba persino troppa io sono uno che sostiene sempre che nei giochi meno c'è meglio è e qua è vero che ci sono più elementi ma il fatto è che siano tutti quanti strettamente legati e interconnessi che ogni azione ha comunque ripercussioni sulle altre azioni e soprattutto sulle azioni che potranno fare gli altri giocatori mi piace un sacco anche perché in realtà i punti che noi faremo alla fine della partita dipenderanno moltissimo da queste carte bonus che avremo preso è il modo in cui noi avremmo scelto di condurre la nostra partita non un gioco sicuramente per tutti un gioco già pensato per giocatori più esperti ma che probabilmente non aveva avuto negli anni in cui uscì la fortuna di essere così tanto conosciuto così tanto giocato perché secondo noi è un bellissimo classico da giocare da conoscere e ora che arriverà appunto in questa nuova edizione che ho visto erano poi usciti un paio di spin off il gioco di dadi il gioco di carte ma quelli non erano all'altezza e secondo me è proprio bello perché pur avendo tante cose pur avendo troppo marrone al suo interno sì va bene a livello di grafica bella secondo me ogni colore monocromatico a se stesso e concludiamo la nostra settimana l'unica con in giallo che ce l'ha gentilmente dato una delle nostre giullaresse d'oro Laura grazie grazie mille questo gioco investigativo in cui la protagonista è proprio un personaggio un appassionato di Agatha Christie quindi è come se ci trovassimo proprio all'interno di un romanzo di Agatha Christie che io adoro ok nella scatola di in giallo noi avremo tre avventure tre misteri da dover risolvere che il gioco ti consiglia di giocarli in ordine perché hanno dei collegamenti ma in realtà sono collegamenti molto labili soltanto magari ah quel personaggio che c'era nell'avventura prima mi ha parlato di te ma lei non sa che sono io mi faccio entrare ed è molto come ambientazione proprio quella dei romanzi di Agatha Christie di Miss Marple piuttosto che di Poirot in cui noi ci troviamo nei panni dell'investigatore che si troverà con un omicidio per le mani che sembra impossibile che nessuno sembra essere stato ma interrogando i probabili indagati le persone che erano sul luogo del delitto andando a vedere i vari luoghi e cercando indizi che poi dovremo tra di loro collegare andremo a risolvere il crimine si spera tutto è bene ciò che finisce bene il gioco è proprio un investigativo puro avremo questo mazzo di carte che raffrigura le varie appunto persone con cui potremo parlare i vari luoghi i vari oggetti sui quali potremo indagare e tramite appunto avremo dei documenti insomma dei grossi fogli su cui magari c'è sito l'elenco delle persone che possiamo interrogare magari una planimetria dell'hotel piuttosto che della villa con i vari posti in cui possiamo andare ad indagare prenderemo la carta col numero corrispondente e la leggiamo e poi starà tutto quanto a noi nel fare i giusti collegamenti trarre le giuste deduzioni e mi è piaciuto molto che sia tanto basato sulla psicologia anche dei personaggi molto fa quello che ti viene detto il modo in cui ti viene detto in base al punteggio che fai non è che sei stato bravo sei stato premiato però i personaggi avranno un epilogo un epilogo diverso ti finisce la storia quindi se hai fatto da 14 a 25 un tal personaggio fa delle cose piuttosto che altre quindi continua questa cosa della narrazione del gioco il punteggio poi in realtà di per sé non è importante ai fini dell'avventura cioè è bello comunque riuscire a immergersi in questa storia immergersi proprio nell'ambientazione che ti vuol parlare parlare effettivamente con questi personaggi e riuscire a capire quello che è successo proprio molto come un libro giallo che fino che non sei alle ultime pagine sei lì che ti fai tutte le supposizioni ah ma quello ho detto ah ma quello ho fatto ah ma quello è andato sembra molto di star leggendo un libro giallo e quindi è bello arrivare alla fine per al di là dei punti fatti per leggere qual è l'epilogo effettivamente della tua avventura per conoscere tutti i personaggi certo per conoscere i luoghi della storia e le storie sono comunque molto belle cioè non sono storie si raffazzonate che non hanno una trama esatto hanno proprio una bella storia i personaggi sono anche ben descritti ben caratterizzati e non bisogna lasciare nulla al caso e sono probabilmente il miglior investigatore al mondo se lo volete invece affrontare un po' più come gioco di per sé e anche comunque secondo me anche degli ottimi punti a suo favore il primo è che tu saprai da subito quali domande ti verranno fatte e saprai da subito fino a che quantità di carte di piste chiamiamole così puoi andare ad indagare per cercare di fare il maggior numero di punti e altro aspetto carino che è un po' più gioco ma che comunque ha il suo senso il fatto che nelle avventure si potranno collegare delle piste ovvero ci saranno alcune carte dove magari un'impronta digitale una chiave da mettere in una serratura avranno delle linee colorate e quando tu troverai una chiave piuttosto che un sospettato potrai andare a vedere se la linea si collega nello stesso modo sull'altra carta allora vuol dire che quel tal personaggio ha effettivamente quel numero di scarpe che quel tal capello oppure si ti porta a dire non può essere assolutamente suo esatto quindi c'è questa modalità comunque molto semplice molto immediata però anche carina a livello di gioco per collegare gli indizi l'abbiamo divorato praticamente in due sera oppure magari in pausa pranzo ci ha preso cosa che perché comunque sai che è veloce non ti dura come uno Sherlock che comunque ha bisogno di 3-4 ore magari per un caso poi le carte magari le metti un attimo via ti rimetti da parte quelle che hai già visto quindi è un attimo e quindi questa cosa mi è piaciuta molto perché abbiamo di nuovo ritrovato con in giallo la questione di dai abbiamo mezz'oretta andiamo un po' avanti vediamo di capire cos'è e farlo per più serie di seguito in due giorni abbiamo giocato comunque tutte e tre i casi facendo pranzo cena pranzo il giorno dopo e l'abbiamo finito però è stato è stato veramente veramente piacevole e finisce così la nostra settimana ludica ma come sempre prima di salutarvi vi ricordiamo che lunedì è uscito il gameplay di Get On Board gioco di cui vi abbiamo parlato ampliamente in codesto diario quindi se non lo avete ancora visto e vi abbiamo incuriosito andate assolutamente a recuperarlo invece mercoledì è uscito proprio il gameplay dello scatto perfetto quindi andate a vedere che è riuscito a fare le fotografie migliori se abbiamo scoperto dove si nascondeva lo Yeti e siamo riusciti a portare a casa le prove della sua esistenza e noi come sempre vi diamo appuntamento ai nostri prossimi video per chi ci sarà prossimo venerdì vi ricordiamo venerdì sabato e domenica saremo a Lucca Comics and Games quindi ci vediamo anche lì in giro per il padiglione Carducci e non solo probabilmente magari faremo anche qualche altro spera e quindi noi vi ricordiamo che qui a casa Giullari si gioca per giocare i Giullari vi salutano e che il gioco sia con voi ciao 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 ciao